Guarda, ok? Vediamo, facciamo una prova, facciamo una prova. Come si chiama l'energia prodotta dal vento? Sì, è oliva. Guarda, perfetto, funziona così. Ok? Adesso partiamo con la gara. No, non è così. Tanti mesi mi vedete? A volte le donne siamo più brave, cioè... Ma la fai? Va bene, non lo so, ma sì. No, 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 rimani qui. Facciamo una schiena che mi viene un'altra squadra. Una schiena che mi fa giusto. Lascia così. Lascia così. Ok, vediamo un palettino. Come si produce l'energia sfruttando il calore della Terra? Sì. Ok, facciamo un po' di due. Biodermica. Biodermica. E sai spiegarmi come si produce? Allora, il calore del nucleo della Terra. L'acqua è fattata, vera, vi avvicinano, non troppo lo so, lo si riscarda e risale in superficie. E' un calore come una turbina. Bravissimo, ragazzi. Bravissimo. Bravissimo. Ok, se ci avviamo inizio. E' un calore che è una schiena già termica. E appunto c'è un tubo che porta l'atto fino alla terra dove c'è il malto, ma incadescente. Poi questa acqua che viene riscaldata e risale di nuovo sopra che fa un'altra turbina e che produce un'esperienza. Bravissimo. Beh, angelo. Angelo, se tu sei d'accordo, angelo, mi vuoi lavorare a tu. Se sei d'accordo segnerai due punti per poi una risposta. Per ogni squadra. Però venite beneritati. Adesso facciamo un'altra. che cosa sfrutta il principio dell'energia da biomasse?